Negli anni 90 non c'era adolescente che non avesse il loro poster appeso in cameretta. Stiamo parlando dei Backstreet Boys, considerata la boy band più iconica di sempre. In Piazza Verdi, per il Capodanno Spezzino, non ci saranno gli originali, ma la loro cover band ufficiale, i Backstreet Back. Ci saranno i Backstreet Back, che sono la cover band europea ufficiale dei Backstreet Boys, che è una boy band molto celebre degli anni 90. Quelli meno giovani se la ricorderanno volentieri, comunque è una boy band che ha fatto grandissimi successi. Loro sono molto bravi, fanno molte coreografie, cinque ragazzi sul palco sicuramente faranno divertire. A mezzanotte il brindisi e poi il classico zibaldone, con il ritmo travolgente della samba e l'immancabile trenino. A seguire ancora musica e animazione non stop finché ci sarà la voglia di divertirsi. Per tutta la serata protagonisti DJ di Radio Number One, che trasmetterà in diretta nazionale dalla nostra città. Noi abbiamo una sede operativa in un palazzo a Bergamo, dove abbiamo non solo Radio Number One, ma tutte le radio del gruppo. Abbiamo gli studi per andare in onda, anche con una parte dei programmi da Milano, in via Melchiorre Gioia. Sì, è una radio che è molto lombarda come nascita, come crescita, anche se ormai è una radio che copre tutto il nord Italia, compresa la Liguria e quindi per noi è estremamente un onore, un piacere venire alla Spezia per il Capodanno. Oltre a Piazza Verdi sarà Piazza Cavour, l'altro cuore pulsante del Capodanno Spezzino, con protagonisti gli Ikebana, orchestra della Valdivara, che offrirà al pubblico canzoni popolari, liscio e disco music. Convolgiamo le generazioni che sono più trasversali, nel senso con gli Ikebana, che sostanzialmente ci faranno divertire con tutte le musiche dal vivo, con un cantante Giorgio che sarà protagonista, bravissimo, bravissimi, quindi un altro momento di grande divertimento. Per i più tradizionalisti l'appuntamento è invece al Teatro Civico, con il concerto di Capodanno organizzato dalla Società dei Concerti. Saranno inseguiti i più celibri waltzer della tradizione viennese, da Strauss a Schubert. Il tradizionale ma innovativo concerto al Teatro Civico di fine d'anno con la musica classica, i classici waltzer viennesi e con l'orchestra della Fidermonica di Lucca. Quindi siamo un triplice appuntamento, tutto finalizzato al divertimento per tutte le generazioni, una grande festa e soprattutto una grande ribalta nazionale ancora una volta per la spezza della nostra città.